Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Jennifer e oggi risponderò a tutte le vostre domande Ora io prenderò il mio telefono dove ho tutte le domande che voi avete fatto sul box domande che vi avevo lasciato su Instagram Vi dirò che non le ho ancora lette perché volevo avere una reaction vera, diretta, quindi non ho la più paleta idea di che cosa voi mi abbiate chiesto Eccole qua, mostra tutte, queste sono tutte le domande che voi mi avete mandato, oddio Ce ne saranno di più serie e di più divertenti immagino Allora iniziamo, partiamo da una base, quante relazioni hai avuto? Siete molto interessate alla mia vita sentimentale devo dire Ho avuto una sola relazione dai 15 ai 18 anni, nulla, questo è, nessuno mi vuole, fidanzata solo una volta nella mia vita, potevo evitarmela, non importa Allora, un sacco di domande riguardo la mia situazione sentimentale Altra domanda quotatissima, quanto sei alta? Togliamovi questo dubbio, sono alta 1 metro e 60 Vi dirò, la verità è che nella carta d'identità, non so, oddio, non so, vediamo Eccola qua, c'è sch... no! Questa signora che mi ha fatto la carta era un po' antipatica, dunque ha voluto segnare questa cosa assolutamente fasulla Che sono alta 1,59 Però, allora, questa qua è stata fatta nel 2018 Vuoi vedere che in 4 anni non sono cresciuta di un centimetro palese, io sono almeno 1,60 Poi, con queste scarpe sarò anche 1,70 tra un po', mistero svelato Non potete più assolutamente vedermi dal vivo e dire Ma non pensavo fossi così bassa, pensavo fossi molto più alta Sono bassa, sono bassa Però, insomma, cioè... Prizza Padova te lo fai offrire dai fan Gabriel Organizziamo Che scuola hai fatto? Come andavi a scuola? Oddio, allora, io ho frequentato il liceo scientifico Penso tu ti riferisti al liceo, ti parlerò comunque del liceo Ho frequentato il liceo scientifico Ma vi dirò, sono stata bocciata Sono stata bocciata in prima liceo scientifico Con 8 in matematica, fisica, scienze, quelle robe No, forse scienze no Però, vabbè Non andavo bene in storia e latino È stato abbastanza traumatico Latino mai fatto Primo anno avevo una professoressa Partita in quinta E una professoressa di storia Che periodicamente bocciava tutte le ragazze Che frequentavano il conservatorio Non so che tipo di trauma avesse subito Fatto sta che è andata così Sono stata rimandata Ho fatto ripetizione tutta l'estate Con una professoressa del miglior liceo classico Se non lo sapeva lei, latino Dimelo tu E mi ha detto Minimo 7 prendi Ero a posto io Illusa Sono stata rimandata Mi ha dato in prima liceo Una versione d'autore Quattro in latino A distanza di un mese Ho fatto il primo compito di latino In un altro liceo scientifico Dieci Dieci Per quanto riguarda storia Invece io dovevo recuperare Il secondo quadrimestre Perché il primo l'avevo già recuperato Questa professoressa ha deciso Di non presentarsi all'esame Uno Due Di farmi fare una verifica Interamente sul primo quadrimestre Con domande veramente molto specifiche In storia alla fine mi ha dato tre Tre in storia E sono uscita dal liceo Alla fine che storia era la materia Che più mi piaceva E in cui andavo meglio Ma non importa Il vero cambiamento è stato il quinto anno Ho capito cosa fosse effettivamente lo studio Ho proprio studiato Perché mi piaceva farlo Passiamo alla prossima domanda Che lingue sai? Oddio adesso Va bene che sono estremamente intelligente Però mi limito a sapere l'italiano Così anche con qualche lacuna E l'inglese Anche quello con qualche lacuna Io ho sempre imparato l'inglese Guardando video Film Canzoni Ho viaggiato molto Da 13 anni Sono andata in Lussemburgo Con un'orchestra Dove c'erano musicisti di tutta Europa E lì c'era magari una mia amica Che aveva fatto liceo linguistico Che era tutta lì impostata Non sapeva spiccicare una parola Io che non sapevo assolutamente niente Hi hello my name is Jennifer Ho fatto un po' di spagnolo alle medie Hola Però in realtà mi piacerebbe veramente tanto Sapere un sacco di lingue Secondo me è super affascinante Vedere che una persona sa parlare Un sacco di lingue È una cosa che Mi attira proprio Buena Buena visto Spagnolo Come fa una persona splendida come te Ad essere single? Perché lo chiedete a me? Dovete dirmelo voi Che tipo di contenuti porterai Sul tuo canale YouTube? Allora adesso sto portando Un po' di contenuti di presentazione Perché effettivamente Sono i miei primi video Principalmente in realtà Lo scopo di YouTube è proprio quello di permettermi Di farmi conoscere meglio E permettervi di conoscermi meglio Non mi piace essere una foto lì su Instagram A di là di questo Sicuramente vorrò portare un sacco di contenuti Di esperienze Lifestyle Viaggi Spesso E lo vedo anche dalle domande Do una certa impressione Tipo che vada sempre tutto bene Assolutamente Va sempre tutto bene Però sapete Magari ci sono quei piccoli retroscena Che non sempre vengono captati Ti seguo da poco Ed è incredibile quanta positività Ed energia Sprigioni ogni giorno Grazie Raga vi giuro Simone Ti voglio tantissimo bene Questi messaggi a me fanno Benissimo Cioè in realtà Tutta l'energia e la carica Me la date voi In maggior parte del tempo Quindi grazie mille C'è un'altra domanda Di Luigi Che in maniera un po' romanzata Mi chiede Dove trovo la forza di essere così solare e positiva Caro Luigi Non lo so neanche io Non sono sempre solare Cerco di essere sempre positiva Sono cresciuta in un ambiente Estremamente negativo Da quando sono andata a vivere da sola Per me è stata tipo la svolta E ho capito l'importanza di essere positivi nella vita Ricordatevi sempre questa cosa Può non essere colpa vostra Quello che vi accade Però è comunque sempre una vostra responsabilità Il modo in cui reagite a quella cosa Se l'amorosetta ti lascia Se l'amico non ti parla più È vero Sono cose che magari hanno un impatto negativo Momentaneamente su quello che stai facendo Però Voi avete comunque La forza e il potere di reagire Positivamente Posso scegliere se Stare a piangere tutto il giorno Sul mio letto Oppure posso scegliere se Trasformare questo dolore In qualcosa di più grande Mi scrivi in palestra Inizio a curare di più La mia persona Inizio a studiare di più A leggere di più Non c'è positivo o negativo Secondo me È sempre veramente come scegli tu Di vedere le cose Io sto scegliendo di vederle in maniera positiva Altro trucchetto per essere felici Fate le cose che vi piacciono Fate le cose che vi fanno stare bene nella vita Anche questa sembra una frase fatta Non lo è Cioè quella persona che vi fa stare bene Frequentate persone che vi facciano stare bene Ci sono invece persone tossiche all'interno della vostra vita Allontanatele Vi assicuro che le persone che vi circondano maggiormente Saranno quelle che avranno un impatto più forte nella vostra vita Mia nonna mi diceva sempre Guarda chi frequento e capirai chi sono Altra frase fatta Però è assolutamente vero Se voi vi circondate di persone Sempre col sorriso Positive Che hanno voglia di fare Che hanno voglia di vivere Che hanno voglia di sperimentare Voi vi riempirete di gioia Di positività E avrete un sacco di voglia di vivere Che genere di uomo ti piace? Mi piacciono le donne No Purtroppo no Io vi assicuro Ma proprio vi assicuro Che per me esteticamente Chi se ne frega Allora Piano Sicuramente un'attrazione Anche da punto di vista sessuale ci deve essere Quindi se mi fai proprio cacare La vedo dura Però tendenzialmente Non è che preferisco il biondo Il moro Gli occhi azzurri Anzi sono state moltissime le volte In cui esteticamente Mi piaceva tantissimo una persona Apriva la bocca O comunque non riusciva a farci un discorso sensato Via Quindi sì ragazzi Curatevi Siate sempre profumati Carini Però c'è tanto altro da valutare Il genere di uomo che effettivamente a me piace È determinato Che sa quello che vuole Che mi trasmette positività Una persona che ha voglia di fare Sicuramente non una persona negativa Perché se sei una persona negativa Ti annotano subito Poi sei pure buono Va bene Noi ti teniamo Ma non è quello il punto Quando hai iniziato ad allenarti Anche qua secondo me ci sono delle idee un po' confuse Io ho fatto danza per 13-14 anni Io amo la danza Io amo ballare Avevo liceo, conservatorio Ovviamente quello che ho dovuto mettere da parte È stata la danza Dopodiché ho fatto pole dance Solo che quando mia mamma ha visto che i saggi sarebbero stati in mutande E su un palo in discoteca Non era d'accordo Abbiamo smesso anche pole dance Ci sono un sacco di cose che avrei voluto fare Cavallo, pugilato, ginnastica, ritmi, pattinaggio Un sacco di cose Le proverò adesso E le porterò anche su questo canale Perché ho deciso che funzionerà così Al di là di questo Per quanto riguarda l'allenamento In quarantena In quarantena io ho iniziato con dei video su YouTube Ha iniziato a diventare abbastanza un'ossessione Non una cosa molto sana Dopodiché in realtà io ho iniziato ad effettivamente andare in palestra Ad ottobre Da sette mesi Quindi ragazzi io veramente vado in palestra da relativamente molto poco tempo Quanti tatuaggi hai? Ciao mamma, ciao papà Non lo so Aspetta Uno qua Uno qua Tre Quattro Cinque Uno qua Sei Sette Otto Ne ho otto L'otto è sempre stato un numero veramente molto importante per me Quindi Sono pari Devo farne un altro Allora Diego mi chiede Una mia curiosità è se tu ti vedi bella come lo sei realmente Ho paurissima a fare questo tipo di discorso Perché so, ormai ho capito Che agli occhi degli altri risulto carina Cioè una bella ragazza, ok? E comunque io mi espongo molto dal punto di vista estetico Non consapevole del fatto che metto davanti la mia immagine Continuerò comunque ad avere un sacco di problemi con la mia immagine? Sì Non so che cosa farci ragazzi È un controsenso È paradossale la cosa Lo so che non sembra E so anche che in tanti si arrabbieranno per quello che sto per dire Perché sembra che una ragazza che è generalmente considerata bella Non possa avere delle insicurezze Ma la verità è che sono estremamente insicura del mio aspetto fisico Io ragazzi non sono quasi mai andata al mare con degli amici Perché mi vergogno del mio fisico Sono consapevole del fatto che sicuramente se mi faccio una foto Quella foto mi piace La pubblico ed è finita là Ci sono le luci, ci sono le pose Tanti pianti prima di fare quella foto Madonna che merda Normalizziamo il mio corpo Per questo io vi dico State veramente molto attenti a quello che vedete nei social A me dispiace veramente tantissimo Quando magari leggo di alcune ragazze che mi scrivono Ma come fai ad avere quel fisico? Anch'io vorrei essere come te No, cioè veramente Io sono quella che di solito guarda le altre e dice Wow, magari avere quel fisico Io ho sofferto tantissimo per il mio fisico Ne soffro tuttora Ed è forse questo il motivo per cui continuo a lavorarci così tanto Sicuramente il fatto di espormi così Da un lato magari mi aiuta a dire Vabbè, oh, sono fatta così Mi devo fare il video Così sono, così rimango Però vi assicuro Che non è sempre come sembra da fuori Anzi, io generalmente nella mia vita Ho sempre cercato di puntare su altro Sulla mia simpatia Vabbè, insomma Speravo di essere simpatica Intelligente Acculturata Quindi ogni volta che mi viene fatto un complimento sul mio aspetto fisico Accetto e vado avanti Io comunque rimarrò con le mie insicurezze Hai mai fatto sesso? No Qual è il tuo miglior pregio e il tuo peggior difetto? Allora Miglior pregio? Allora Difetto? Io non lo so Io non ne ho Hai dato per scontato Quindi dico uno che può essere sia il miglior pregio Sia il peggior difetto Sono sincera Sono una persona estremamente sincera e trasparente Purtroppo Perché in molti casi Specialmente magari nel lavoro che faccio Vedo che serve molto avere questa doppia faccia Saper fare il doppio gioco Fare un po' i furbetti così Io non riesco Se c'è una persona che mi sta antipatica Lo vedi Ma proprio lo vedi Ma te lo dico Poi d'altro canto Per me la sincerità è uno dei valori più importanti da rispettare Quindi è anche un bel pregio dai Vedo che c'è veramente tantissimo interesse Per quanto riguarda il mio canale Holyfans Ma questo canale Holyfans Ce l'ho? No Lo farò? No ragazzi Non è previsto Per ora Non si sa mai Giudico chi fa Holyfans? Assolutamente no Come mai io non l'ho ancora fatto? Nonostante mi sia stato proposto da veramente un sacco di agenzie Persone Manager Perché non mi interessa in questo momento So che potrei guadagnare effettivamente molto facendolo Però per il momento non ho questa grandissima necessità di soldi Preferisco magari guadagnare meno Però guadagnare facendo qualcosa di dignitoso per me Non giudico assolutamente chi lo fa Anzi Se è quello che queste persone vogliono veramente fare Io stimo estremamente tanto queste ragazze Che riescono a comprarsi casa facendo questo Ma non pensate che sia solo questione di mettere la fotina Puletto 20.000 euro sul conto e sono contenta No raga ma perché secondo me c'è proprio una pressione a livello mentale Sociale Allucinante Non penso sia una cosa che magari potrò fare così tanto a lungo Se poi avrò una famiglia reagirà a questa cosa Se avrò un figlio mi farà piacere il fatto che magari escano determinate foto Non lo so Il fatto che la mia famiglia smetterebbe totalmente di parlarmi Potrebbe magari interessarmi Certo se fosse una cosa che io volessi fare tanto Cavolo io proprio nella vita vorrei fare Holyfans Lo farei Perché chi se ne frega di quello che pensano gli altri Ma non avendo io in questo momento questo estremo bisogno di avere tutti questi soldi Preferisco farmi un poco alla volta Facendomi il culo letteralmente su tanti altri aspetti E vedere come va Poi rimango sotto un ponte Mia madre si ammala ho bisogno di un sacco di soldi per farla curare Potrei anche passare a questa piattaforma Però per il momento non ne ho questa necessità Altra cosa che mi chiedete spesso Quanti anni ho? Visto che ci stiamo conoscendo forse è il caso di farvi sapere che sono del 2001 Quindi ho 21 anni Quest'anno ne faccio 22 Il 28 agosto Mi raccomando voglio gli auguri Se volete Un consiglio che hai da dare agli insicuri A nessuno frega niente di quello che fai Te lo giuro Ogni persona sta pensando agli affari propri Io l'ho visto girando con persone estremamente pazze E da loro ho capito che agli altri non frega veramente nulla di te Hai una vita sola Insicuro di cosa? Vuoi fare una cosa? Buttati L'insicurezza non ha senso Sei legata alle tue radici? Assolutamente no Non so perché A me potrebbero dire domani Ciao, vieni Ti ho trovato un bellissimo lavoro in America Io parto Frega niente di nessuno Oddio Voglio bene a tutti Però non lo so Forse sono anche sicura dei rapporti che ho Talmente tanto che il fatto di allontanarmi per determinato periodo di tempo Non mi spaventa Non lo so Veramente non sono radicata a nulla Secondo me è anche dovuto dal fatto che magari Ho fatto l'asilo Il posto L'elementare In una scuola privata I medi sono andata in centro Il liceo l'ho fatto da una parte Poi sono stata bocciata L'ho rifatto da un'altra parte Sono andata a fare un'università a Trento Quindi nel senso Mi sono sempre spostata tantissimo A 13 anni Andavo da sola A suonare in questo orchestra di Lussemburgo Secondo me i miei genitori Grazie per questo Mi hanno Da un lato Sempre voluta Vendere un po' indipendente No? Ora Se ne stanno pentendo Maramente Come potrebbe approcciarsi verso te? È una bella domanda Perché raga Veramente Nessuno mi approccia più Il massimo di approccio che io dicevo È Messaggino sul telefono Ciao bella figa Come stai? Che fai domani? Ti offro aperitivo Se questo è il massimo Che siete in grado di fare Forse siamo messi un po' malino Molto semplici Sono una ragazza estremamente semplice Preferisco l'approccio dal vivo L'approccio fatto sui social Sono molto vecchio stampo A me proprio Le cose old school Piacciano parecchio La rosa Che sembra una cosa così banale Magari anche un po' di galanteria Non so che è una parola ormai Però ogni tanto fa piacere Quanto impatta il tuo personaggio Nella tua vita quotidiana? La domanda è da fare un po' al contrario Quanto la mia vita quotidiana Impatta il mio personaggio? Totale Io sono veramente 100% me stessa L'unica cosa che varia un attimo È il livello di sicurezza Che mostro Nel senso che nei social Sembro estremamente sicura di me stessa Sempre felice Sempre 100% Sembra che abbia un fisico perfetto Veramente Ho appena letto una domanda Come fare ad avere un fisico così perfetto Non è così L'unica cosa che tendo a non mostrare Sono tutte le mie sicurezze Io raga Le storie le facevo quando avevo 15 anni Andavo al bar e taggavo il bar Nella storia Perché non era il bar ad essere figo Perché Jennifer Roncato ci andava là Ma ero io figa Perché andavo in quel bar Capito? Quando hai perso la virginità? 16 anni? 16 anni Con il mio primo fidanzatino L'ho fatto aspettare 9 mesi Buonino 9 mesi Io l'ho data e ci siamo lasciati Chiamo papà Se vuoi venire a prendermi Ok ragazzi Siamo giunti alla fine di questo video Per me è stato estremamente un piacere Condividere tutte queste cose con voi Spero in questo modo Di essere riuscita a farmi scoprire un po' di più Se avete altre curiosità ovviamente chiedetemene Ci sono tantissime altre cose di cui potremmo parlare Potrei parlare per ore Non so nemmeno quanto durerà questo video Forse troppo Essendo stato il primo video di risposta alle vostre domande Ho messo un po' le basi Sono andata con calma Ho risposto alle domande più tranquille Spero ce ne potranno essere altri Io vi ho detto sono super sincera e trasparente Non ho nulla da nascondervi E super volentieri risponderò a qualsiasi altro tipo di curiosità Che avrete su di me Grazie per avermi ascoltata Ricordatevi di iscrivervi al canale E fatemi sapere se c'è qualche contenuto in particolare Che vorreste vedere su questo canale